no 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 sono baciate ma che le ragazze si possono baciare però vedi che hanno le bocche ciao amici allora ragazzi oggi sono qui con due ospiti speciali presentatevi perché sicuramente non vi conoscono certo ciao sono ben noia ciao sono totta insieme siamo le k4u le power puff girls allora siamo qui oggi per fare la reazione ai vostri gaccia life su di me ok chi stai copiando che noia si sono io mi avete mandato un sacco di video sulla mia mail bellissima che si chiama cescacupido-gmail.com quindi se avete dei video gaccia life che avete fatto su di me o sui miei amichetti quadretti trovate la mail qua sotto in descrizione ora basta allora cominciamo con il primo che è la vita di baby cesca parte 1 che presuppone un sequel allora qua c'è subito baby cesca che fa cosa ciao amici ed eccomi tornata con un momento di riflessione uovo video video no spoiler oggi vi farò vedere com'è la mia vita insieme a cesca corretto francesca perché è la sua conquista serena non ho più voglia di fare la voce evitiamo che cos'è la mia stanza ma scusa il fenicottero con gli occhiali da sole io questo lo voglio nella vita reale te ce l'hai alla fine come sfondo basta solo mettergli degli occhiali da sole buongiorno mondo chi è che si sveglia e fa buongiorno mondo chi ti trovate in una persona cosa vuol dire sta cosa è che sei molto pesante ah no è baby cesca cammina tantissimo beh succederà qualcosa ah nooo che è successo che hai fatto è successo qualcosa baby cesca compiaciuta in basso a sinistra e lei che ha dato poco alla casa in realtà mentre dormiva nel sonno mentre dormiva è bellissima non gliene frega niente cioè lei proprio non gliene frega niente ma come se fosse la normalità probabilmente guarda con una bottiglietta d'acqua guarda con una bottiglietta d'acqua quanto male adesso risolverà la situazione lei è proprio superiore al tutto ma comunque non gliene frega niente tipo guarda queste fallite che fanno tutto sto casino per un fuocherello mi bastava una bottiglietta d'acqua e poi cosa oh attenzione dissing ha cucinato francesca vero buoooo brucia non è colpa mia ok sei tu quella io sono io non sai cucinare questa è una frase che direbbe sere si tutte le mattine iniziano più o meno così ma come? mi dispiace che bello che? come? è grande modo da fare la transizione prima bisogno di vado dopo aver fatto colazione qualche ritardo qualche minuto qualche minuto dopo aver fatto colazione ci vestiamo e andiamo a farci un giretto oh guarda ma che belle che bella famiglia comunque comunque la fotografia è eccezionale in pigiama sono in giama sono in giama guarda le facce le facce sono bellissime finisce sempre così che esce in pigiama ma sarà torniamo a casa francesca mi fa invitare delle mie amiche a casa ah delle sue amiche chi sono le amiche è baby charlie è charlie ma c'ha un becco chi è? forse è lei chi? è la ragazza che ha fatto questo ah si perché poi dice se volete la seconda parte ma che bello pace e unicorni a tutti vabbè è andata a fuoco una casa è uscita in pigiama a sere si è abbastanza carina diciamo che sono molto intenditrice di gacha life che ho visto molto nella mia vita e posso dire che cioè se fai un gacha life magari non fare i zoom e tagli i fumetti perché lì rende un po' difficoltosa la lettura cioè un consiglio ho capito allora cesca e che noi ha 24 ore insieme vai ok non c'è la musica ah ora mi toccherà uccidere colui che ha osato rovinarmi l'appetito ho già capito che muori già sei qualità arrabbiata sicuro che muori tu ho intasca la pizza prima e vabbè prima di andare in battaglia i veri guerrieri mettono al sicuro ciò a cui tengono di più hai ragione si però c'è se è sporca ma perchè si perchè qualcuno mi ha rovinato l'appetito nooo che è successo che succede sono io sono io se cesca quando mi faccio sono io la leggente lei come ha osatovi l'essere umano di sturbare il mio pasto devo dire benvenuto ho soffritti da bene ah perchè tu credo di averti suonato e quindi ti ho rovinato il pasto per così poco sei un po' nervosetta comunque la cosa che mi piace di più sono le reazioni che mi cesca a questa cosa comunque sono qui perchè devo fare questa sono io che parlo hai manie di protagonismo hai rovinato l'appetito allora sono arrabbiata allora devi essere me comunque sono qui perchè devo fare questa challenge di vivere con una pizzeriana per 24 ore bello beve beve c'hai il bicchiere la se vuoi non avevo mai assaggiato un caffè del genere wow infatti non è caffè sono pizzeriana quindi quindi quella è la pizza c'è una pizzeria c'è una pizzeria quindi quella è la pizza al caffè liquida in che senso oddio ah arcobalino vivente morta vomito arcobalini che fa che sta facendo ah lottiamo sto criticando sono troppo ah just dance ah just dance che che co bellissimo bellissimo che noi aspiro a just dance se sono riuscita a giocare a fortnite con un pigiamone da giraffa con 50 gradi si l'ho fatto davvero non sarà un problema battiti io avrei detto no non gioco a just dimmi di più eh sei morta mi dice come? ma perchè? sei morta sempre che mi succede qualcosa di brutto ti mostro la tua stanza che spero appaia magicamente questa è la scusa char... cosa? scusa ci sono dei canali no vabbè questo questo gacha life è bellissimo allora c'è charlie charlie moon nooo e sereee cos'hanno fatto? lei ha rubato un biscotto ma sai che charlie è morta direttamente? si si è proprio morta col biscotto in bocca questo rappresenta la mia vita comunque bene e sere è lì che non mi vuole quindi questa è la mia stanza oh no oh no stanza sbagliata scherza i did the full one eeeeeee sono scogliata vado a dormire sono forse un po' preoccupata sono accenato no 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 non andare a mandare di Maia è la fine no 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 oddio c'è della pizza avanzata no zii no no la pizza no eh iiii no Maia no che hai detto? che hai detto? e vabbè questa è morte certo tutta intera tutta intera non era male anche se era dolce come era dolce che c'era il cianuro dentro oddio oddio c'era il cianuro dentro c'era il cianuro e orecchia spesso siamo fatta la mia amica pesata ma che cazzo ma che cazzo è molta comunque così non mi frega e così? oh no nooo era una youtube seria così Martina che noia morì per aver mangiato una pizza alla nutella oh era nutella nooo ecco che sono morta ecco vedi non ho neanche dovuto ammazzare sei stata tu a uccidermi mi sono uccida da sola a causa della mia allergia alla nutella pensa a te raga bellissima che roba mi è piaciuto tantissimo questo complimenti questo è proprio studiati i dettagli questo è stato proprio bello nooo vabbè nooo raga ma cos'è Ted Bundy qua è bellissimo è bellissimo la povera Trabbesca venne arrestata per rapimento, omicidio e contrabbando illegale di pizza no vabbè posso fare una parentesi eh? poliziotto sexy ok la Trabbesca arriva nel poliziotto nooo ma cosa sei? ma che plot twist è bellissimo cioè è come quei film ma alla fine c'è è bellissimo tutte le cose che succedono dopo scusate è bellissimo like 4 iscritti allora DioChan Nel sei veramente totta sei iscritta al tuo canale ma adesso mi iscriverò anche io bellissimo fanne altri ti prego ne ho bisogno fai una serie complimenti scrivi un libro io che sono massima esperta posso dire che questo è uno dei migliori che abbia mai visto pensa te addirittura ragazzi veramente complimenti complimenti mi sono davvero tanto Cesca è in un'altra dimensione e la vogliamo guardare vai un'eternità dopo che la sveglia è suonata Cesca sei pronta dobbiamo registrare che dobbiamo registrare Cesca oh sveglia te hai morta pure tu basta sveglia telefono l'hai assaltata l'hai uccisa alzati ma comunque non cambia l'espressione questo giorno vai a cambiarti questa è proprio l'intera dimensione ma dov'è la sua dimensione non lo so è arrivata Bebicesca adesso bisogna registrare dopo la registrazione del video troppo troppo stanca vado a fare un pisolino ma che è successo dove mi trovo ecco la dimensione fatata ciao ma perché ti sei truccata e vestita molto elegante sono sempre così c'è quel quadra che non cosa ecco la Bebicesca ma è cresciuta qualche ore dopo qualche ore sono caduta e sono morta no la sera appare dal nulla ma cos'è perché ti sei buttata stai impazzendo questo cacciata proprio zitta qua l'ha fatto una persona che non l'avevi che ha fatto aaaaaaah che ha fatto aaaaaaah che è successo sono baciati che ma questo è quando si baciano veramente carota davvero ma che le ragazze si possono baciare però vedi che hanno le bocche era solo un sogno però veramente felice no? si alza tutta era solo un sogno ma non avevo molte idee quindi spero sia abbastanza cringe e divertente era abbastanza cringe vabbè c'è stata la limonata c'è stato ah c'è stata la limonata l'omicidio il rapimento il vicendio sei anche andata in galera eh? sono anche andata in galera no ragazzi quel video è bellissimo cioè veramente vi ho ancora complimenti adio chan nel sei la nostra vita ti amo grazie grazie di tutto ah è chan nel resta avanti ma perchè hai disattivato i commenti? attivali io voglio chiamarmi che noia chan cioè grazie di tutto veramente complimenti ancora complimenti a tutti grazie per avermi mandato i vostri gaccia like mi raccomando fatene altri e così poi reagiamo di nuovo tutti insieme oppure io da sola perché non vorranno più giocare seguitemi su instagram Francesca Tamburini e at baby tattino a basso cesca like commento qua sotto trovate la mail dove mandarmi i prossimi gaccia life quindi se volete partecipare al prossimo video trovate la mail qua sotto e ditemi lasciatemi un commento qua sotto scrivendomi qual è secondo voi il gaccia life migliore di questa puntata e niente detto questo vi saluto un bacio ci vediamo al prossimo episodio ciao e iscrivetevi ai loro canali e niente ciao tanto 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 meno e pace amore unicorni a tutti ciao 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 ciao